Il Papa, come dicevate, sarà in piazza San Pietro, dovrebbe fare un giro tra la folla che è numerosissima, è arrivata e non è riuscita a entrare né in chiesa né nello spiazio all'aperto in cui il Papa ha celebrato messa, ha celebrato messa dialogando con i bambini, l'omelia era tutta a braccio, ha chiesto chi era Dio come fosse un bravo parroco, ha impartito la comunione, la prima comunione ai bambini e ha scherzato con loro, ascoltiamo allora le sue parole. E Gesù ci ha salvato, ma anche cammina con noi nella vita, è vero questo? E come cammina, cosa fa quando cammina con noi nella vita? Questa è difficile, chi la fa vince il derby? Cosa fa Gesù quando cammina con noi? Forte! Primo, ci aiuta! Ci guida! Benissimo! Cammina con noi, ci aiuta, ci guida e ci insegna ad andare avanti. E anche Gesù ci dà la forza per camminare, davvero? Ci sostiene, bene, nelle difficoltà, vero? E anche nei compimenti della scuola, no? Ci sostiene! Il Papa è dentro la parrocchia, la regia ci mostra la jeep bianca in cui dovrebbe fare il giro tra i fedeli. Ha impostato la sua omelia dedicata alla Madonna, perché questa è la parrocchia dedicata ai Santi Elisabetta e Zaccaria, prima parrocchia di Roma che visita. Ha detto, la Madonna, dice il Vangelo, va di fretta a salutare Elisabetta. E' bello pensare che la Madonna viene sempre di fretta quando noi la chiamiamo. Bisognerebbe aggiungere una litania alle litania della Chiesa. Signora, che vai di fretta, prega per noi. Io vi restituisco la linea e ci sentiamo più tardi.